Buona lunedì 22 giugno all'insegna dell'empatia, all'invito di accogliere dentro noi stessi l'esistenza altrui nella sua autenticità e farci naturalmente disponibili a mettere in luce il nostro modo di vivere, la nostra esistenza, la nostra intima realtà e nella condivisione empatica possiamo trovare la forza per ritrovare la gioia anche laddove ci sia il dolore. L'empatia non è un istinto, è qualcosa che va coltivato, che è necessario imparare giorno dopo giorno attraverso la disponibilità reciproca e questo è possibile soltanto se ci lasciamo andare alla dimensione dell'amore che ci orienta e ci guida nel percorso della vita. Buona giornata a tutti.